I carabinieri della stazione di Acqueviva, con il supporto di equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia di gioia del Cole, negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul territorio traendo un arresto tre persone. In Manette, un 49enne del luogo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, è arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione locale e domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, contenuta in quattro barattoli. Su disposizione della procura della Repubblica di Bari, l'uomo è stato collocato ai domiciliari. Stessa sorta è toccata ad un sorvegliato speciale di 32 anni del luogo, sorpreso nel comune di Sant'Aramo in Colle, nonostante avesse l'obbligo di non allontanarsi da quello di Acqueviva delle Fonti. L'uomo, che dovrà rispondere di violazione degli obblighi, è stato collocato ai domiciliari. In esecuzione di un ordine di carcerazione, infine, è stato arrestato un 58enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, condannato in via definitiva a scontare 9 anni e 3 mesi per estorsione continuata, usura, risa e resistenza pubblico ufficiale, è stato associato alla casa circondariale di Bari.